Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini, il leader della Lega, fa un'intervista dal Papete, dove qualche giorno che è lì per una vacanza proprio a Milano Marittima e le domande del giornalista spaziano un po' su tante cose. Il giornalista dice ma la vostra è una coalizione abbastanza litigiosa? Lui dice ci insultano ogni giorno ma io non mi muovo di un millimetro, vado avanti fino in fondo. Ieri Conte sproloquiava sulla Lega che fa ostruzionismo sui processi, è l'esatto contrario ma Draghi sa perfettamente di chi può fidarsi di chi no, risponde il capo della Lega e Draghi sa che può fidarsi di lei, Draghi sa chi lavora per lui e per l'Italia, chi lavora per il partito e gli interessi personali. La domanda sulla coalizione poteva essere interpretata, parlava della coalizione di centrodestra o parlava della coalizione di governo? Non lo sapremo mai. Quanto durerà il governo? Deciderà Draghi. Ma arriverà, lei spera che arrivi a fine legislatura? Deciderà Draghi, se vuole andare a fare il Presidente della Repubblica sicuramente i 5 Stelle faranno qualsiasi cosa per non andare a votare. Con questi alleati è difficile fare le riforme, lo conferma, dice beh lo abbiamo visto ieri in Consulio dei Ministri, è durata 8 ore con i 5 Stelle che minacciavano le dimissioni ogni quarto d'ora, noi costruiamo gli altri smontano. Quindi si vede che Salvini cerca di intestarsi il governo Draghi, dire il governo Draghi siamo noi, Draghi è la Lega, la Lega è Draghi. Non so quanto gli elettori possano essere felici di affiancarsi così strettamente a Draghi e dire noi siamo i fedelissimi di Draghi. Non mi sembra che gli elettori della Lega siano così soddisfatti in generale di Draghi. Lo erano anche prima che iniziasse a governare, è come se ci fosse una repulsione a priori, a prescindere. Beh, dice Letta non ha il controllo del partito, è una banderuola, i 5 Stelle hanno più tribù della Libia, noi cerchiamo di tenere tutto insieme. E qui Salvini rimarca noi siamo i fedelissimi, noi siamo quelli bravi, noi siamo quelli che cercano di non creare problemi. La Lega continua a vedere favorevolmente un'eventuale elezione di Draghi come Presidente della Repubblica, chiede il giornalista e lui dice stiamo lavorando per Draghi. Se fosse disponibile ovviamente sì, ma in tal caso si dovrebbe andare al voto. Il giorno in cui si andrà a votare noi saremo pronti, in questo momento Draghi è un paracadute per l'Italia, è bene che sia qui. Dove va Draghi noi ci siamo. Quindi Salvini dice Draghi come testa da riete, noi stiamo dietro, lui fa le cose e noi poi lo sosteniamo e poi quando ci sarà da votare ci troveremo già le cose fatte. Ma questo lo abbiamo sempre detto. La presenza di diversi parlamentari leghisti alla manifestazione contro il Green Pass non la imbarazza, chiede il giornalista. E lui dice io sono per la libertà, è un dibattito surreale, la gente normale non si fa questi problemi, vuole equilibrio, non è no vax né vacciniamo chiunque respiri. Questo significa essere di buon senso, vacciniamo tutti quelli che servono senza entrare nel merito di obblighi e di bambini. Però non ha risposto sulla manifestazione. Voi sapete che i politici della Lega che si sono presentati alla manifestazione no Green Pass a Roma hanno avuto l'autorizzazione del capo di Salvini ad andare. Cioè gli hanno chiesto se noi andiamo ci sono problemi? No, andate pure. Sicuro? Andate pure. Alla domanda del giornalista la presenza dei leghisti alla manifestazione la imbarazza? Ha risposto un'altra cosa perché non vuole rispondere, perché non può dire che lo imbarazza perché lui ha detto andate pure. E con Draghi lei non ha parlato di questa manifestazione? Dice assolutamente il giornalista ma il premier era irritato per la manifestazione? Dice non ho parlato della manifestazione né con Draghi né con Giorgetti. Leggo ricostruzioni surreali su questo. Ognuno è libero di partecipare alle manifestazioni che vuole. Se esponenti della Lega vanno alle manifestazioni dei tifosi del Napoli o degli insegnanti sono liberi di farlo. Le manifestazioni dei tifosi del Napoli? Con Giorgetti le sensibilità sembrano più diverse che del giornalista. È vero che ha dovuto insistere per farlo partecipare alla festa della Lega qui a Cervia e che il suo vice non vuole ricandidarsi? No, sono bip. Non ci siamo mai sentiti così spesso come in questo periodo. Sulla giustizia l'abbiamo fatta io, Giorgetti e buongiorno la trattativa, malgrado quello che dice Conte. Tra ieri e ieri e l'altro ieri con Draghi ci siamo sentiti almeno dieci volte. Ma in diversi l'accusano, dice il giornalista, di soffiare sulle varie manifestazioni, alimentare con le sue posizioni di ambiguità. Si riconosce. Dice sui vaccini io ho detto che la scienza dice che dai 60 anni in su vanno fatti perché salvano la vita. Per tutti gli altri italiani devono poter scegliere. Stanno scegliendo. Io mi sono vaccinato ma non transigo sui bambini. Che vaccino ha fatto? Chiede Moderna. E sul Green Pass ha cambiato idea? Chiede il giornalista. Il Green Pass così com'è evidentemente non funziona. Per esempio va tolto l'obbligo nei ristoranti interni, agli alberghi. Come fa una famiglia in vacanza con i figli adolescenti sopra i 12 anni? Mica può fare il tampone tutte le sere per andare a cena in albergo. Poi sono contrario al Green Pass sui treni a lunga percorrenza. Anche il fatto che leggo sui siti dei giornali che alcune regioni diventeranno gialle tra 15 giorni sta facendo danni peggiori della Grandine. Non voglio pensare che sia speranza dare le veline ai giornali perché stanno piovendo migliaia di disdette in tutta Italia. E poi gli chiede il giornalista sulle amministrative d'autunno. Dice ho buone sensazioni anche se tranquilli non si sa mai. L'unica città dove non ha mai vinto il centrodestra è Torino. Sento una bella aria. C'è un bel clima. Sarebbe storia quella di vincere a Torino. La più difficile è Bologna ma tutte le piazze sono contendibili. Dice anche il collegio di Siena dove è candidato Enrico Letta. A Roma andremo sicuramente al ballottaggio. Sono curioso di vedere con chi. Se con Gualtieri o con la Raggi. La lista della Lega è la più forte che abbiamo alle amministrative. Arriveremo primi al ballottaggio e poi ce la giochiamo. Infine il segretario leghista attacca Piergamillo Davigo rego di aver criticato di referendum sulla giustizia promosso insieme al Partito Radicale. E lui dice che ormai in procura a Milano si indagano tutti fra di loro. Oggi hanno indagato Greco poi ha indagato Davigo. La procura che indaga è tutta indagata. È una scena imbarazzante. Spero che intervenga il Presidente della Repubblica perché da milanese avere la procura che si indaga a vigenda è una vergogna. Intervento del Presidente della Repubblica ma quello non interviene solo quando gli serve interviene ma per il resto il Presidente della Repubblica sulla magistratura non interviene. Almeno questo. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.